Salve a tutti ragazzi ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip e bentornati su The Forest ho ricaricato la partita, ah ma c'è anche qua una finestrella quindi si può anche vedere il panorama il panorama, allora dicevo, altri episodi di costruzione e poi ne faremo uno di esplorazione ragazzi adesso che siamo all'inizio un po' di episodi di costruzione allora la prima cosa che serve qua in questa casupola è il fuoco, quindi io qua ci farei un fuoco costruiamo il fuoco, farei già quello prepotente questo posso costruirlo dentro? tipo sì posso anche costruirlo dentro quindi tanta roba, sì sì se io lo annullo lui mi dà dietro i materiali, sì non tanti però allora direi che il nostro fuoco io lo posso fare qua un momento ragazzi fuoco, buca per il fuoco io lo metterò qua sì ok ah no sì però li perdiamo, va bene qualcosa si perde bene 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 allora dicevo ho ricaricato la partita, qua c'era un palo una volta dove davo un sacco di bastoni non c'è più a quanto pare vabbè ok mi servono anche delle pietre, grazie ok please guarda che siamo uno sputo dall'altra zona sai perché quella gialla che l'avevo messa a verde, vabbè ok proviamo ad andare adesso così speriamo averne altri tra l'altro non mi è venuto in mente, poi io potevo tirarci con la fionda e gli stronzoni che venivano fuori qua non so quanto male avrei potuto fargli ma allora mancano le rocce dobbiamo vedere beh intanto ce n'è una qua ce ne mancano una ok ragazzi così possiamo anche accendere il fuoco e cucinarci qualcosa in realtà allora perché non l'hai acceso sto fuoco scusa ok vai con la R vai con la C vai con la R c'ho qualcosa a cucinare si ho un conigliaccio ragazzi io mi mangerai il conigliaccio dolcini per 6 ah le posso anche mettere sulla slitta cioè posso mettere la slitta per andare a cogliere bastoncini eh mi sa che sulla slitta i bastoncini ci dovrebbero stare tipo un botto se è così ragazzi lo faccio e poi lascio la slitta qua e me ne faccio un'altra di slitta ok come cibo stiamo più o meno a posto manca il bere ma no vabbè per adesso prendilo manca il bere ma poi andremo a vedere cosa cavolo ok vabbè per il bere basta andare dall'altra parte e bere ok tanto sia qua cioè non è che sia tra l'altro qua c'ho anche la mia trappolozza dei coniglietti giusto dov'è la mia cosa da bere eccola qua vai tra l'altro piove quindi si ricarica molto bene qua io avevo quasi fatto il letto però vabbè ok allora la mia trappola per i conigli l'avevo messa chi si ricorda qua in giro è quella la no ma lo devo ancora finire vero eh mamma mia vabbè finiamola sì perché mi si era rotta ragazzi qua c'è sto coso qua che non mi piace per niente qua è in zona eh tra l'altro ci possiamo sempre fare la nostra molotov con questo coso quindi facciamocela per carità un'altra molotov grazie e riprendilo ok adesso io direi che vabbè bastoni per adesso non mi servono bere abbiamo bevuto siamo a posto si ci manca giusto un po' di appetito ma io direi di mangiarci tipo una di queste e stiamo a posto perfetto ok ragazzi qua siamo pieni di bastoni perfetto li potrei anche prendere da là però lascerli là che potrebbero sempre servire là magari a fare qualche trappolozza oppure in caso di di che siamo pieni in caso di attacchi vari ce li abbiamo lì a portata di mano diciamo ok allora allora un attimo che siamo stanchi perfetto mettiamoli giù mi sa che ne posso portare tipo un botto qua così va bene la slit la parcheggiamo qua e adesso noi cosa ci costruiamo perché so che si può fare non da qua ma da qua so che si può fare in costruzione dove è la costruzione arredi no piccole trappole barche effigi dove è la costruzione sarà qua ah eccola qua non tipo le mura no forse le intrappole ragazzi arredi piccole trappole trappole avanzate eccola vedete la trappola di comparette che io ho data dovrebbe essere quella che ci protegge tipo vediamo un po' c'è tipo adesso io no facendo una cosa del genere se io la metto qua ok ah si vedete forse però è meglio farla un po' più grande così tipo così ok e io farei giusto così così da proteggerci un po' ragazzi poi farei così magari dritto di qua e poi giù di qua così giusto? giusto poi Q no chiudiamo per favore così no ho cancellato tipo tutto bene rifacciamo quindi diciamo che la voglio prendere da qua la voglio tirare fino a qua poi da qua la voglio tirare fino a qua il muraglio poi da qua la voglio tirare fino a qua ok ok ci siamo adesso? si ok mi servono 166 tronchi ragazzi ok non lo faremo in questo episodio lo faremo in un prossimo vediamo cos'altro possiamo costruirci che intanto lasciamo lì la costruzione arredi banco da lavoro ragazzi col banco da lavoro mi ispira non so che cavolo serva ma vabbè io ce lo metterei qua nostro banco da lavoro con la R ok e ok servono solo due tronchi quelli li faccio in fretta c'è un banco da lavoro in questo episodio ragazzi vediamo cosa serve tra l'altro perché non ne ho una minima idea ok vai vai butta giù l'albero yes spegni sto coso ok spegni sto coso ok la buttiamo giù qua ragazzi giusto bello sembra una panca con la R cosa posso fare no si siede ma che cazzo è una panca è una panchina banco da lavoro oh io stavo seduto nella mia panchina ascoltando il sound che cazzo vuoi vabbè 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 mamma mia mamma mia vattene in casa questi sono incazzosi oppela 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 e vai così eh guarda che roba visto oppela ma mi ha preso sì mi aveva preso ragazzi oppela sassata eh già è un'altra sassata lì e via il dente via ma questi mi stanno distruggendo la casa ragazzi un momento a posto dicevamo ah non ho più sassi non ho più sassi bene maledizione ok alla vecchia maniera venite forza merda via sono troppi incazzosi oh questo mi è entrato in casa che cazzo ok guardate un attimo ragazzi che ho distrutto l'appartamento non so se si possa tipo rimparare all'infinito sta cosa non è una minima idea mazza raccolto fammi vedere sta mazza ammazza che mazza fammi vedere la mazza no 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 la mazza ho detto la mazza momento 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 non l'avevo equipaggiata scusate mazza no meno male che se ne sono andati ragazzi alcol diminuiscono l'energia che cavolo ho utilizzato io questa e 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 questa come si fa a fare la cura e chi ne ha e questa no non me lo fa no ho l'aloe e questa dovrebbe essere questa giusto allora l'aloe si e alt mix ma che cavolo va bene non mi ricordo ragazzi come si fa a fare la cura comunque non abbiamo cure bene perfetto adesso ci costruiamo qua è un altro episodio di costruzione ragazzi so che è un po' palloso però c'è anche questo fireplace che cavolo è 40 di pietra arredi fireplace ma io me lo faccio ragazzi arrediamoci la casa ma che ce frega allora vediamo un po' questo qua io lo metterei qua giusto proprio come cavolo è dritto può essere dritto così giusto e tipo un camino bellissimo questi sono tornati alla carica un momento ragazzi tra l'altro mi hanno fatto distruggere il fuoco forse il fuoco è meglio farlo fuori questa netta sensazione è eeeh opela 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 salve no ma proprio niente proprio così zero eeeh no equipaggio e no mi attaccano lo stesso ragazzi qua siamo nella merda no non va bene non va affatto bene non va affatto bene non va affatto bene l'arco non ho le frecce qua ho visto che con la fionda non faccio uno sega accidenti e dai salve brucia eh brucia eh mamma mia minchia però le molotov eh wow fantastico allora cominciamo a farci sta cosa qua via la testa scusate eh ok vi abbraccio e via questo ok altri perfetto eeeh no ragazzi io devo fare il fuoco fuori perché altrimenti questi in casa me lo spaccano allora facciamo con la p andiamo a vedere se riusciamo a farci il nostro fuoco all'esterno per favore cioè in realtà sono io che me lo auto spacco però va bene io me lo metterai qua sei qua fuori dai piedi va bene eh ci mancano le pietre però diciamo che quelle si trovano abbastanza facilmente ma là ci sono dei tronchi caduti no però sapevo che là c'erano delle valigie ragazzi a me servirebbero molto delle medicine quindi il prossimo episodio ragazzi andiamo là a prendere quelle valigie perché per forza servono come il pane le medicine ok poi magari farò un po' di gioco diciamo off camera per per fare sto recinto non so dove andare a prendere la legna ma da qualche parte la prenderò no 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 cavolo ne manca sempre come al solito una ok allora ragazzi adesso il problema è riuscire a prendere le rocce perché le rocce io ne posso portare al massimo cinque e quel coso lì che stiamo facendo ne richiede tipo un casino non so se posso metterle in realtà sulla slitta perché sarebbe una gran bella cosa se fosse così adesso ci proviamo di mettere giù queste ah beh ma servono anche due di log bene allora provo a prendere si può prendere lo stesso anche se si è capovolta tipo si meno male vediamo un po' se io prendo tipo la roccia la posso mettere qua no ci posso mettere il bastoncino e basta quindi le rocce ragazzi a mano ce le portiamo perfetto era proprio quello che desideravo portarmi le rocce a mano allora tagliamo giusto qualche log proprio per averlo anzi guardate ce n'è anche uno qua tagliamo giusto qualche sostalbero qua e proviamo ce n'è un altro là di log due tre oh mamma mia spino di log là che ho dimenticato tra l'altro ah no forse sono quelli che ho lasciato là apposta perché via sulla slitta no ok dicevo forse sono quelli che ho lasciato lì apposta allora vediamo un po' di fare cioè di andarle a recuperare almeno visto che me ne servirà tipo un casino e mezzo almeno facciamoci qualcosa no quindi no che è un cavolo cc cc ok niente ce la portiamo così basta tagliare basta bene vai mamma mia c'è proprio questo davanti perfetto eh ma veramente però ok niente ragazzi questo lo finirò nel prossimo episodio sicuro anzi lo finirò lo vedrete finito nel prossimo episodio perché continuano a rompermi le palle e quindi non posso fare un episodio dove sto in casa rintanato come come pochi quindi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio di The Forest fatemi sapere la vostra e commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti e da lì un tripe è tutto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao